Bentornati alle nostre fotopillole di storia, è la fotografia che in qualche modo ci racconta e ci documenta gli eventi principali della storia, essenzialmente dell'Ottocento, e per questo appuntamento, come avrete intuito dalla copertina, ho scelto di trattare un argomento, di dialogare attraverso alcune foto su un fenomeno estremamente singolare, che ha riguardato la storia dell'Ottocento, che ha riguardato sia la storia politica che appunto la storia della fotografia. In particolar modo, per quanto riguarda la storia della fotografia, ha costituito e creato, diciamo, un corpus fotografico unico e un fatto, potremmo dire unico, ma molto imitato. Si parla nella, come dire, fotopillola e quindi in questa breve cavalcata fotografica dei ritratti della Contessa di Castiglione. Direi di partire con ordine per dare, come sempre, qualche linea guida prima di parlare della fotografia. Vi leggo dal testo di Antonio Spinosa come viene presentata la Contessa di Castiglione. Non si conosceva con esattezza la data di nascita di Virginia, una data che oscillava fra il 1835, il 1837 e il 1840, sebbene i più propendessero per il 22 marzo del 1835. Altrettanto enigmatica appariva la paternità. Si diceva figlia illegittima del granduca Leopoldo di Toscana o addirittura del cardinale Antonelli? O ancora, era nata da una fiorentina di cui si era invaguito un diplomatico polacco. La nascita era tuttavia avvenuta certamente a Firenze e al di là di ogni altra fantasia si potevano indicare come suoi genitori Isabella Lamporecchi e il marchese Filippo Oldoini, che era ligure. Nobili italiani a tutti gli effetti. Oltre al nome di Virginia le imposero quelli di Elisabetta, Luisa, Carlotta, Antonietta, Teresa e Maria. In realtà, vi dicevo, la vita di Virginia Oldoini, figlia di questo miscuglio tra la nobiltà ligure e la nobiltà fiorentina, si svolse fondamentalmente a Firenze. Perché? Perché i genitori, che erano entrambi abbastanza leggeri, diciamo così, riguardo alle responsabilità di famiglia, delegarono l'educazione e la crescita di Virginia al nonno materno. Nonno materno che era, sì, un nobile fiorentino, appunto Lamporecchi, ma Ranieri Lamporecchi era un avvocato, era anche un funzionario del governo granducale. Il suo unico scopo era quello di, come dire, mantenere e conservare la nobiltà d'animo e il buon nome di Virginia, tanto che fu addirittura affidata alle orzoline per la sua formazione, ma le orzoline la reputarono troppo fervente nella fede, forse poi le vale lingue dissero che forse aveva in qualche modo inventato questa fervente fede, tanto da simulare addirittura lievitazioni davanti all'altare o estasi durante la preghiera, dopo una settimana la rimandarono a casa dal nonno, dove, vi dicevo, visse sostanzialmente la sua infanzia e preadolescenza. Un luogo, quello dei Lamporecchi, un palazzo, appunto, sui Lungarni, che era frequentato dai politici dell'Ottocento, in particolare amico del Lamporecchi era Massimo D'Azzeglio, che era molto, come dire, interessato alla crescita della, appunto, bambina, che in casa tutti avevano soprannominato Virginicchia e D'Azzeglio la chiamava Nicchia, con questo piccolo nome, con questo piccolo diminutivo. La vita, appunto, trascorse a Firenze in maniera abbastanza regolare all'interno di questo palazzo nobile, fra istitutori, dame di compagnia, una vita classica della nobiltà ottocentesca. Si dice che già da quel periodo, vedete un'immagine dell'infanzia di Virginia, si dice che già da quel periodo fosse nota per la sua bellezza e che quando appariva sul palco dei Lamporecchi al Teatro della Pergola tutti i binocoli da teatro erano puntati su di lei e sul palco dei Lamporecchi. Questo ingresso in società sottolineato dalla bellezza e quindi dall'aspetto esteriore e fisico di Virginia Aldoini fece sì che molti dei nobili o comunque dei rampolli nobili della Toscana, ma anche Liguri, si avvicinassero appunto alla ragazza. In particolare diciamo che quello che poi rimase un po' la linea presente, la persona presente più a lungo fu il Marchese Doria. Il Marchese Doria che sicuramente rimase vicino a Virginia fino al momento in cui invece alla corte dei Lamporecchi non arrivò la richiesta di un nobile torinese. Vi leggo ancora dal testo di Spinosa. Il 35enne Francesco Verasis, che sarà poi Verasis Asinari, conte di Castigliole d'Asti scusatemi e conte di Castiglione Pinella da qui poi, contessa di Castiglione da qui il titolo, era rimasto vedovo e desiderava risposarsi. Nel girovagare alla ricerca di una nuova moglie approdò a Londra dove incontrò l'ambasciatore piemontese Massimo D'Azeglio. E da lui si sentì dire, caro Conte, non avresti dovuto mai lasciare la tua bella Italia. Credetemi, andate a Firenze, presentatevi alla Marchesa Oldoini. Riuscite simpatico alla figlia, la giovane nicchia? Sposatela e avrete per moglie la donna più affascinante di tutta Europa. Il conte seguì il suo consiglio e una volta a Firenze si presentò ai genitori di Virginia. Si dice che Virginia fu molto restia a questo legame, a questo matrimonio, addirittura fu formalmente a sconsigliare, a far perdere di interesse al conte per evitare le nozze, che invece si tennero, quando Virginia aveva 17 anni, presso la chiesa di Santa Maria del Fiore, il 9 gennaio del 1854. Dopodiché i giovani sposi si trasferirono nel palazzo Verasis di Torino. Il tempo del matrimonio, intanto vedete che caratterizziamo un po' l'Ottocento, Virginia 17enne va in sposa a un 35enne. Questa è un po' ancora la caratteristica del matrimonio combinato, del matrimonio nobiliare. In un certo senso la fanciulla, a meno che non viene designata al convento, è velocemente data in sposa e, come dire, organizzato il suo futuro. Vi dicevo, il matrimonio introduce a questo punto Virginia in quella che è la corte sabauda e ancora di più il suo aspetto fisico riscuote successo. Ancora di più la fama della bellezza di questa donna entra, come dire, prepotentemente nella sua organizzazione quotidiana, nella sua vita quotidiana. Sebbene fra Nini e Boco sono questi i nomi che Virginia annota nel suo diario, si dice che per tutta la vita Virginia ha tenuto diari delle sue frequentazioni politiche, sentimentali, amorose, sessuali. E vi dicevo, sebbene fra Nini e Boco sembrano essere rose e fiori e quindi sembra scorrere un bel idillio amoroso, un anno dopo addirittura nasce il primo figlio, il primo ed unico figlio, Giorgio, Giorgio Verasis Asinari, che sarà poi l'erede del titolo. In realtà Virginia, all'interno della nobiltà e, come dire, della corte sabauda, sembra comportarsi, da quello che dicono le cronache, sembra comportarsi come se non fosse sposata. E sicuramente, dicono le cronache, continua a frequentare il Marchese Doria, che dicevamo prima, uno dei suoi primi spasimanti. Questa è una voce talmente tanto diffusa che nei salotti il nome, il nomignolo che Virginia ha dato a Francesco, appunto, Bocco, viene spesso storpiato in becco. Quindi, diciamo, un anno, il primo anno di matrimonio, abbastanza, abbastanza complicato da questo punto di vista. E vi dico subito che, sebbene lungamente queste problematiche sulla fedeltà di Virginia affiorano, in realtà, e sebbene dopo circa tre anni di matrimonio, Verasis chiede la separazione, in realtà la separazione non avverrà effettiva, non avverrà mai. Anche grazie ad una, come dire, intermezzo politico al quale Virginia viene instradata da Cavour. Cavour è in quel momento un politico del Parlamento Sabaudo, ha comunque un ruolo politico nel governo, e allo stesso tempo un lontano cugino di Francesco Verasis e i due vivono in due palazzi contigui, quindi sono costantemente in contatto. Fu Cavour, vi dicevo, che movimentò e che probabilmente interruppe un po' quelli che erano le crisi di coppia, che la coppia stava in qualche modo vivendo, dando a Virginia un incarico politico ufficiale. Virginia fu inviata a Parigi, alla corte di Napoleone III, dell'imperatore, con il precipo scopo di tessere una relazione e facilitare una relazione fra lo Stato piemontese, quindi fra il Regno di Sardegna e la Francia. Siamo nel 1855, esattamente un anno prima dell'ingresso del Regno di Sardegna a fianco della Francia nella guerra di Crimea, e Virginia ha questo ruolo fondamentale, nonché delicato, di trattare questo ingresso e di trattare di conseguenza tutti quelli che sono gli aspetti politici, tutti quelli che sono gli aspetti strategici di questa alleanza. Anche a Parigi arriva prima la fama di Virginia e arriva per prima la fama della sua bellezza. e allo stesso tempo a Parigi Virginia inizia una nuova vita. Impegnata in quello che potremmo definire lo scacchiere politico europeo, diventa anche la favorita di Napoleone III, la favorita dell'imperatore, della quale per circa un paio d'anni, un anno, un anno e mezzo, diventa l'amante ufficiale. Questo crea moltissimi, ve lo potete immaginare, crea moltissimi squilibri anche dentro la corte, ma al tempo stesso consolida e conferma la sua missione. Abbiamo già detto, nel 1856 il regno di Sardegna è al fianco della Francia nella guerra turca, russo-turca di Crimea. Il sodalizio resta attivo per molti anni, vi dicevo, e anche se probabilmente non ha più il ruolo della favorita dell'imperatore, Virginia rimane a Parigi e Virginia rimane un punto di riferimento per quello che riguarda tutta la, come dire, l'estetica femminile e lo stile di vita, come dire, delle giovani nobili. In questi dieci anni molti sono gli sconvolgimenti nella vita di Virginia, ma soprattutto al termine di questi dieci anni Francesco Berasis muore e Virginia resta la vedova del conte di Castiglione, quindi resta comunque Contessa di Castiglione, appunto perché vi dicevo in questi dieci anni molte volte, al di là di una richiesta formale del marito, di una separazione, molte volte ci sono stati delle operazioni anche di avvicinamento o riavvicinamento, ma poi la separazione effettiva non è mai avvenuta. E' in questo frangente che si sviluppa al massimo il mito della Contessa di Castiglione, la donna più bella d'Europa, la mataari, diciamo, dello scacchiere politico europeo, che vive essenzialmente la sua vita nella conservazione ed esaltazione della sua immagine, sostanzialmente sfrutta la sua immagine, la sua bellezza, e di conseguenza quello che la sua immagine e la sua bellezza le rende, le frutta, alimentando, appunto, vi dicevo, il suo stesso mito. Come lo fa? E qui entra in gioco la fotografia. Ne avete vista già qualcuna che scorre? Alimentò il suo mito arrivando a farsi scattare oltre 400 ritratti. I 400 ritratti di Virginia. 400 ritratti, noi abbiamo parlato già più volte della fotografia in queste pillole e delle tecniche fotografiche. Voi immaginate nella seconda metà dell'800 che cosa significa collezionare 400 ritratti, dal punto di vista economico e quindi di investimento economico, ma anche dal punto di vista dei tempi. Scattare, sviluppare, stampare una fotografia immaginando di passare dalla lastra a tutti i vari procedimenti ottocenteschi, era essenzialmente un lavoro lungo e impegnativo. Lavoro lungo e impegnativo che arricchì e consacrò diciamo nella storia della fotografia lo studio parigino Meyer & Persson che era sostanzialmente già noto perché era lo studio nel quale si faceva ritrarre Napoleone III ma chiaramente non solo a quel punto ottenne un successo in fatto tangibile di visibilità attraverso le foto della contessa di Castiglione ma ottenne una grossa potenza dal punto di vista economico. Si dice infatti che quando Verasys morì era sostanzialmente impoverito da tutta una serie di investimenti che la moglie aveva continuato a fare a Parigi in maniera abbastanza autonoma e anche un po' indisciplinata potremmo dire. Ossessionata in maniera narcisistica dalla sua bellezza e dalla sua immagine apprezzata da tutta la nobiltà parigina e tutte le cronache raccontano di questa bellezza anche attraverso questa fotografia anche attraverso questa diciamo attività di documentazione della sua bellezza Virginia Virginia Oldoini è sostanzialmente la manager di se stessa studia attentamente i ritratti prima di farseli scattare programma le scenografie ovviamente programma e colleziona l'abbigliamento tutto quello che aveva trovato nella Parigi della seconda metà dell'ottocento sartoria la moda novità magazzini grandi magazzini gioielli fiori anche come dire attributi dell'abbigliamento fanno fanno sfarzo accentuano questa ostentazione della della sua bellezza e allo stesso tempo studia costantemente pose non tradizionali che a volte sembrano anche surreali che sono complesse appare quasi sempre voi continuate a vedere queste immagini che scorrono quasi sempre da sola nella scena unici compagni di fotografia compaiono alcune volte dei bambini peraltro quasi mai il figlio ma dicevo unici compagni sulla scena sono gli specchi e quindi di conseguenza a se stessa riflessa il suo doppio nella fotografia si dice che non fosse amata dalle donne si dice che non rivolgesse parola alle donne e che solitamente nei suoi salotti conversasse esclusivamente con personaggi maschili ma al tempo stesso le donne che la consideravano appunto una donna di malaffare una donna arrogante al tempo stesso però tentarono di copiare ed imitare vi dicevo prima lo stile che Virginia Oldoini contessa di Castiglione aveva creato e quindi anche attraverso la fotografia aveva come dire costruito uno stile di vita ricercato aveva dato il corso della moda e aveva dato le indicazioni alle donne per l'abbigliamento e anche per ripeto gli accessori della moda una pioniera della posa fotografica potremmo dire quasi una antesignana del selfie probabilmente se avesse avuto la possibilità di autoscattarsi le immagini sarebbe stata una come dire vittima del selfie lo diciamo senza ironia le immagini che vedete scorrere che avete visto scorrere la raccontano bellissima una bellezza assolutamente come dire intanto calata in quello che era l'ottocento una bellezza sicuramente non convenzionale che forse raccontava più dal vivo che non attraverso le immagini si dice che avesse molto carisma come dire dalla sua e che in qualche modo fosse questo che la rendesse particolarmente attraente a chi a chi si interfacciava con lei non necessariamente agli uomini e non necessariamente dal punto di vista fisico o sessuale si dice al tempo stesso che quando si accorse che stava necessariamente tramontando questa bellezza necessariamente tramontando questo mito della donna più bella d'Europa si come dire si preservò dagli sguardi di tutti tolse la sua immagine agli altri ma la tolse anche a se stessa quando morì gli specchi della sua casa furono trovati coperti alcuni addirittura tolti e venduti quindi quegli specchi che gli erano stati compagni per esaltare la sua bellezza in vecchiaia come dire nello sfiorire di questa bellezza vennero un po' un po' accantonati visse la perdita della sua bellezza come un lutto si dice che passasse il tempo a riscrivere gli eventi della storia che in qualche modo aveva vissuto provando a come dire raccontarli attraverso delle sue missioni politiche quando in realtà l'unica missione politica seppur positiva e seppur come dire di lungo corso fu e rimase quella del 1855 prima di morire il prima di morire aveva tentato di organizzare una grande mostra e si dice che era stato proprio il suo grande desiderio di una grande mostra con le sue fotografie si avvicinava il 1900 l'anno dell'esposizione mondiale e lei sognava di proporre all'esposizione mondiale questa grande mostra con i suoi 400 ritratti intitolata la donna più bella del secolo il 28 novembre del 1899 fu trovata morta nel suo appartamento di Place Vendôme a Parigi e quindi tramontava così definitivamente il il mito della bellezza della contessa di Castiglione e tramontava così anche questo suo desiderio a pochissimo dal traguardo della fine del secolo di come dire eternare per sempre la sua bellezza ottocentesca nella grande mostra all'esposizione universale del 1900 io vi ringrazio come sempre di avermi ascoltato spero che le suggestioni anche di questa pillola che sono un po' meno come dire legate alle vicende storiche ma più forse anche ad un carattere personale della contessa Oldoini della contessa di Castiglione possano sollecitarvi e soprattutto stimolarvi a controllare altre immagini al di là di quelle che saranno passate in questa pillola perché possiamo dire al di là dell'uso più o meno discutibile che Virginia ne fece o ne voleva fare o ne avrebbe voluto fare i ritratti dello studio parigino restano un momento una pietra miliare nella storia della fotografia il ritratto come dire femminile resta una pietra miliare nella storia della fotografia a livello europeo vi ringrazio e ci vediamo al prossimo appuntamento con le fotopillole con le fotopillole con le fotopillole con le fotopillole con le fotopillole